E' qui con noi ora Martina, una delle nostre cantanti di questa sera. Ciao Martina, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Cosa proponi stasera al pubblico del White Angel? Amami di Emma Marrone. Quanto è importante per te questa canzone? Per quale motivo l'hai scelta? E' una canzone molto importante, anche perché anche la cantante mi rispecchia molto e quindi diciamo che è il mio genere. Ma benissimo, quindi noi ti auguriamo a questo punto una carriera alla Emma, perché no? Grazie mille. E tu poi nella vita cosa fai oltre ad cimentarti nel canto? Studio grafica e comunicazione, sono al terzo anno, quindi oltre a studiare studio anche canto privatamente. Quindi pure tu, come gli altri ragazzi che abbiamo visto qui, ti tieni impegnata, insomma vi cimentate anche altro nella vita. Avete la passione per il canto, per un talento, però poi chi continua gli studi, chi lavora, vi tenete impegnati? Sì, sì, infatti sì. Oltre al canto ci sono anche altre cose da fare. Va benissimo. Progetti futuri dopo questa serata? Eh, fare altre serate, altre cose, migliorarsi. Esattamente. Fai un caloroso saluto a tutti gli amici di Street News. Ciao a tutti. Grazie mille Martina. Grazie a tutti.